Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo tutorial del corso di Word, il secondo dedicato alle tabelle. Nella lezione precedente abbiamo visto come creare e gestire la struttura delle tabelle. In questa vedremo come formattarle, come ordinare i dati che contiene, ma soprattutto impareremo ad eseguire dei semplici calcoli al suo interno. Poi, per eseguire calcoli più complessi, ci avvarremo dell'aiuto di Excel, creando all'interno di un documento Word una tabella di Excel, oppure incorporando nel nostro documento un foglio di calcolo creato in precedenza. Insomma, ne vedremo delle belle. Intanto partiamo da questa semplice tabella creata sfruttando le nozioni acquisite già nella scorsa lezione, che vi consiglio di vedere qualora non l'abbiate ancora fatto. Apriamo il capitolo formattazione dicendo anzitutto che le dimensioni complessive di una tabella possono essere modificate in diversi modi. Si può procedere grossolanamente posizionando il puntatore in corrispondenza dell'angolo inferiore destro e, quando questo puntatore assume la forma di una freccia con due punte, si fa un clic e si trascina a nostro piacimento, verso l'interno per restringere, verso l'esterno per allargare, verso il basso per allungare e verso l'alto per accorciare la nostra tabella. Oltre a ridimensionare l'intera tabella, è possibile dimensionare singolarmente righe e colonne. E vediamo subito come. Per dimensionare una colonna si va a posizionare il puntatore sul bordo verticale della colonna e, quando il puntatore assume la forma di due linee verticali con frecce opposte, allora si fa clic e si trascina verso destra per allargare o verso sinistra per restringere. Come potete notare, con questa modalità, la larghezza totale della tabella rimane invariata, in quanto allargando una colonna quella posta alla sua destra si restringe, e restringendo invece una colonna quella posta alla sua destra si allarga. Quindi alla fine le dimensioni totali della tabella rimangono uguali. Per dimensionare una riga si procede più o meno allo stesso modo, ovvero posizionando il puntatore sul bordo inferiore della riga. E poi, quando questo puntatore assume la forma di due righe orizzontali con due frecce opposte, si fa clic e si trascina verso il basso oppure verso l'alto. Esiste anche un percorso alternativo che prevede di operare direttamente sul righello, dove troviamo queste barrette grigie, che sono rispettivamente gli indicatori di colonna e gli indicatori di riga. Per dimensionare una colonna basta posizionare il puntatore sull'indicatore di colonna e trascinare verso destra per allargare o verso sinistra per restringere. Per dimensionare una riga si procede in maniera analoga, cioè si va a posizionare il puntatore sull'indicatore di riga e poi si trascina verso il basso per allargare e verso l'alto per restringere. Vi faccio notare che, a differenza di prima, con questa modalità vengono variate le dimensioni totali della tabella. Questi che abbiamo appena esaminato sono metodi veloci ma anche abbastanza approssimativi, quindi come potete immaginare esistono dei metodi più precisi. Infatti righe e colonne possono essere dimensionate anche operando nelle relative schede della finestra proprietà tabella che si apre o da menu rapido oppure facendo clic sull'omonimo pulsante della scheda layout che sarebbe questo. Per dimensionare una colonna basta attivare la scheda colonna, flaggare la casella larghezza preferita e inserire la misura oppure utilizzare i pulsanti di incremento e decremento, per esempio così. Per dimensionare una riga basta attivare la scheda riga, flaggare la casella specifica altezza e inserire la misura in questa casella, per esempio andiamo a inserire 3 centimetri, dopodiché si preme ok. E questa è la nostra tabella con le nuove dimensioni. Un altro metodo molto comodo per modificare le dimensioni è quello di andare a utilizzare i pulsanti nel gruppo dimensione cella della scheda layout che sarebbero questi due. Anche da qui, come vedete, possiamo andare a specificare con precisione millimetrica le dimensioni che desideriamo. Questi due pulsanti invece consentono di uniformare la larghezza delle celle o delle colonne selezionate. Ciò vuol dire che se seleziono per esempio tutta la tabella ma anche solo una parte di essa e poi clicco su distribuisci righe, l'altezza verrà distribuita equamente tra le righe selezionate. Analogamente accade se clicco su distribuisci colonne. Tramite questa scheda contestuale è possibile anche scegliere se ridimensionare automaticamente le colonne della tabella adattandole al contenuto oppure adattandole alla finestra. Sempre da questa scheda possiamo agire sull'allineamento e sull'orientamento del testo. Per esempio, posizionata in una cella qualsiasi, posso scegliere se cambiare la direzione del testo. tramite questo tasto. Quindi cliccando di volta in volta su questo tasto, come vedete, cambia l'orientamento, quindi la direzione del testo nella cella selezionata. E posso scegliere anche diversi allineamenti. Più precisamente, per gli allineamenti in senso orizzontale possiamo tranquillamente utilizzare i comandi della scheda home, questi qua del gruppo paragrafo che ormai abbiamo imparato a conoscere. Ma se siamo interessati a delle disposizioni particolari, per esempio allineare anche in senso verticale, per esempio quando l'altezza della riga è maggiore rispetto a quella standard, bisogna andare a utilizzare i comandi della scheda layout del gruppo allineamento, che sarebbero questi nuovi comandi. Supponiamo per esempio di voler agire su tutte le intestazioni di colonna. Quindi andiamo a selezionare la prima riga e proviamo tutti i vari pulsanti. Con questo pulsante, come vedete, andiamo ad allineare il testo all'angolo superiore sinistro. Con questo andremo ad allineare in alto ma al centro, con questo andremo ad allineare all'angolo inferiore destro e questo invece andrà a centrare sia in senso orizzontale che verticale. Vabbè, io mi fermo qua, voi per esercizio potete provarli tutti. Bene, passiamo ora ai bordi. Tutte le tabelle per impostazione predefinita dispongono di un bordo continuo nero dello spessore di mezzo punto, che delimita sia la tabella sia le celle. Per definire una diversa formattazione è possibile operare nella scheda contestuale struttura tabella oppure nella scheda home. Quindi io qui diciamo che non mi dilungherò molto perché sono cose che abbiamo già visto all'inizio di questo corso. Però voglio farvi notare una cosa, che nella scheda struttura tabella e più precisamente nel gruppo bordi c'è un pulsante che si chiama formattazione bordi, che permette di applicare facilmente una formattazione a bordi specifici di una tabella. Quindi ci clicco e vado a modificare lo stile ma anche lo spessore è il colore della penna. Mi sposto sulla tabella e vi faccio notare che il puntatore ha appena assunto la forma di un pennello e con un clic vado letteralmente a disegnare i miei bordi. Ecco qui. Alla fine premo ESC per uscire da questa modalità. Benissimo. Per applicare uno sfondo a tutta la tabella o a parti specifiche della tabella è disponibile il pulsante sfondo. Ora non sto qui a dilungarmi perché funziona esattamente come il pulsante omonimo della scheda home. Quindi si va a scegliere un colore del tema oppure un colore standard o tra altri colori. Vabbè ma già sono cose che abbiamo già visto. Se pensate di non avere abbastanza gusto o semplicemente se volete dare alle vostre tabelle un aspetto professionale con pochi clic sappiate che anche per le tabelle Word mette a disposizione una galleria di stili preimpostati ai quali si accede dall'area stili tabella della scheda struttura tabella. Ed ecco qui. Andiamo a cliccare su altro per vederli tutti. Come vedete scorrendo con il puntatore sui diversi stili si ha già un'anteprima automatica del risultato. Vi faccio notare che le caratteristiche di formattazione degli stili presenti qui in galleria variano a seconda delle opzioni selezionate nel gruppo opzioni stili tabella. Questo che significa? Che se per esempio vado a flaggare la casella riga di intestazione la prima riga della tabella assumerà uno stile diverso dalle righe successive e ve lo dimostro subito. Intanto è già cambiata l'anteprima ma come vedo anche sul mio foglio di lavoro la prima riga della tabella avrà sempre un colore più scuro rispetto alle righe successive. Poi per esempio flaggando la casella righe alternate evidenziate avrò una formattazione diversa per righe pari e dispari e ciò ne agevola decisamente la lettura. Cambia l'anteprima qui nella griglia ma cambia anche l'anteprima nel mio documento. Se flaggo riga totale avrò una formattazione diversa per l'ultima riga che potrebbe anche fare al mio caso visto che l'ultima riga in questa tabella contiene il totale. Per esempio scegliamo questa. Perfetto. Ora che i dati sono stati inseriti e formattati potrebbe nascere l'esigenza di ordinarli. Per esempio come facciamo a ordinare questi cognomi in ordine alfabetico. Molto semplice. Seleziono le righe interessate e vado a fare clic sul pulsante ordina nella scheda layout che sarebbe questo. Come vedete mi si apre un'omonima finestra di dialogo dove si va a specificare quale colonna della tabella deve essere presa come base per l'ordinamento quindi in questo caso colonna 1. Il tipo di dati da ordinare in questo caso testo e mi va bene. Il modo crescente o decrescente trattandosi di testo significa dalla A alla Z oppure dalla Z alla A quindi scelgo crescente e poi clicco su ok. Ed ecco che le mie righe vengono ordinate in base all'ordine alfabetico del cognome dei docenti. Possiamo anche ordinare questa tabella in base che ne so all'inizio corso. Quindi con lo stesso procedimento vado a selezionare i miei dati poi clicco sul pulsante ordina. Stavolta da qui scelgo colonna 3. Il tipo è una data e viene riconosciuto. Il modo sempre crescente. Ed ecco qui vengono riordinati in ordine crescente in base alla data. Quindi dal corso che inizierà prima a quello che inizierà dopo. Oppure potremmo decidere di riordinare in base al numero di iscritti. Quindi in questo caso siamo nella colonna 4. Quindi selezioniamo questi dati sempre cliccando su ordina. Vado a scegliere colonna 4. Il tipo è un numero e anche questa volta viene riconosciuto. Stavolta decidiamo di ordinarli in maniera decrescente per esempio. Quindi clicco su ok. Ed ecco che vengono riordinati a partire dal numero di iscritti più alto. Perfetto. Oltre che ordinare i dati, Word dà la possibilità di eseguire dei calcoli elementari. Per esempio in questa tabella ci viene chiesto il totale degli iscritti. E il totale in questo momento non ce l'abbiamo. Abbiamo il numero di iscritti per ogni corso ma non abbiamo il totale perché possiamo calcolarlo automaticamente. Quindi come si fa questa cosa? Basta fare clic sul pulsante formula presente nel gruppo dati e questo clic fa aprire la finestra dove impostare la formula. Il nome della formula è preceduto dal simbolo dell'uguale e seguito da una coppia di parentesi tonde dove indicare la posizione in cui si trovano i dati rispetto alla cella nella quale viene eseguita la formula. In questo caso c'è scritto SEMABOV cioè somma sopra e ci va bene così perché andrà a sommare le celle soprastanti. Ma dalla casella in colla funzione potremmo scegliere anche un'altra delle formule disponibili. Come vedete c'è media, max, minimo, prodotto e così via. Intanto a noi ci serve fare la somma. Quindi andiamo a cliccare su ok e come vedete abbiamo qui automaticamente il risultato 94 iscritti. Ma attenzione ci tengo a dirvi una cosa molto importante. In Word non funziona come in Excel nel senso che il risultato delle formule inserite in questa maniera non viene ricalcolato in tempo reale quando si modificano i valori della tabella. Quindi, che ne so, se il numero di iscritti al corso di Excel passa da 47 a 50, il risultato rimane sempre 94. Per ovviare a questo problema, quindi per aggiornare il risultato di questa formula, è necessario selezionare la cella del risultato e andare a premere il tasto F9 sulla mia tastiera. Ed ecco che il 94 si è trasformato in un 97. Perfetto, perfetto. Se abbiamo la necessità di eseguire calcoli più complessi, sappiamo bene che lo strumento più appropriato per farlo è Excel. E siccome fanno parte della stessa suite, pensate un po', riescono pure a interagire. In quest'ultima parte della lezione vi farò vedere come creare una tabella di Excel direttamente in Word, ma anche come riutilizzare fogli di calcolo già creati in Excel. Quindi, premo CTRL più N per creare un nuovo documento vuoto e andare a creare una tabella di Excel direttamente in questo nuovo documento. Quindi, per farlo basta posizionare il cursore nel punto dove si desidera inserire la tabella, poi andare a cliccare sul pulsante tabella della scheda inserisci e stavolta selezionare l'opzione foglio di calcolo Excel. Ed ecco che nel nostro documento Word viene inserito un foglio di lavoro. Come avrete già notato, l'interfaccia di Word viene sostituita da quella di Excel. Una volta impostato il nostro foglio di lavoro, quindi dopo aver fatto i nostri calcoli, aver applicato determinate funzioni e così via, basta fare un clic in un qualsiasi punto del documento al di fuori della tabella per far ricomparire la barra multifunzione di Word. Poi, eventualmente, per tornare a modificare il foglio di lavoro, basta fare doppio clic al suo interno. Una cosa importante che voglio dirvi è che questo foglio di lavoro appena creato viene inserito in Word come oggetto incorporato. Quindi, se non lo volete più, basta selezionare e andare a premere Cunch sulla tastiera. Ed ecco che viene eliminato. Ok. Ma se non vi piace usare Excel dentro Word, o se il foglio di lavoro che volete inserire è già stato creato in Excel, sappiate che c'è la possibilità di incorporarlo. Per farlo basta aprire il file di Excel contenente il foglio di calcolo da copiare in Word. Quindi io vado ad aprire un foglio di calcolo che già avevo preparato. Selezionare o il foglio di lavoro oppure l'intervallo di celle che si desidera incorporare. Per esempio, vado a selezionare questo intervallo di celle. E poi copiare. Quindi premo CTRL-C. Dopodiché bisogna tornare in Word. Si torna in Word e dalla scheda Home si va a cliccare su Incolla e poi su Incolla speciale. Dalla casella di riepilogo come si va a scegliere l'opzione Foglio di lavoro Excel oggetto. A questo punto premo OK. Ed eccolo qui. Sappiate però che un oggetto incorporato in Word da un'altra fonte di dati perde qualsiasi collegamento con il file originale. Ciò vuol dire che le modifiche all'oggetto incorporate vengono eseguite direttamente in Word e non hanno alcun effetto sull'oggetto originale. Ora, questo aspetto per certi versi potrebbe anche andarci bene, ma per molti altri no. Nel senso che potremmo avere l'esigenza di aggiornare le modifiche che apportiamo. Dunque mantenere un collegamento con il file l'originale. Ecco, se abbiamo questa esigenza, premo di nuovo CTRL N per creare un nuovo documento vuoto. E stavolta dalla finestra di dialogo di Incolla speciale vado a selezionare Incolla collegamento. Ora, in questo modo nel documento Word verrà inserito il contenuto del foglio di calcolo di Excel mantenendo un collegamento con il file originale. Quindi clicco su OK. Qualsiasi modifica apporto da qui verrà replicata automaticamente sul file d'origine e viceversa. Quindi qualsiasi modifica al file d'origine in Excel sarà riflessa nel mio documento Word. E ve lo dimostro subito. Quindi torno nel file d'origine di Excel e vado a fare una modifica. Per esempio questo 200 lo faccio diventare 1200. Ecco che varia sostanzialmente tutto il mio foglio di lavoro, grafico, risultato e così via. Ma vi faccio vedere che di conseguenza anche l'oggetto collegato qui in Word verrà variato. Questo perché sono collegati. Ora, la domanda che potreste farvi è Ma se le modifiche al file d'origine vengono apportate quando Word è chiuso? I dati vengono aggiornati ugualmente? E la risposta è ni. Nel senso che in quel caso, quando andremo ad aprire il documento che contiene oggetti collegati, Word ci chiederà se deve aggiornare il documento con i dati dei file collegati. E quindi, facendo clic su sì, l'oggetto collegato verrà aggiornato rispetto ai dati di origine. Facendo clic su no, il contenuto del documento Word rimarrà invariato. Detto questo, credo proprio che l'argomento tabelle sia stato ampiamente sviscerato e approfondito. Se questo tutorial vi è piaciuto, vi invito a mettere un like, a commentarlo e perché no, anche a condividerlo con i vostri amici, che magari vi ringrazieranno. Prima di salutarvi, vi invito inoltre ad iscrivervi al canale per non perdervi le prossime lezioni. Ciao!